Amici, il nostro pomeriggio al mare è finito, siamo stati molto bene qui. E oggi è pieno, 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 perché oggi da noi festa. San Lorenzo è padrone della nostra città, allora tutti, tutti, tutti andati al mare, anche quelli che non vanno mai al mare. Anche per... ma perché non si vede niente? Anche per ferragosto, sempre pieno mare. La città si svuota perché per ferragosto vanno tutti al mare, anche quelli che non vanno mai, 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 mai. Giada, mi guardi, eh? Vai, saluta tutti, salutiamo tutti i nostri iscritti. Meglio da questa parte, ecco, così meglio, perché sole, quando contro sole è meglio andare e fare contro sole, se no non si vede. Vai. Allora, vi salutiamo e arrivederci a presto. Guardate quanto costa il gelato da noi. Questo qua costava 6 euro da impazzire. Questo per lui, questo per me. Il mio preferito è questo qua. Guardate quanto costa il gelato, costava 6 euro, amici. 6 euro. Meno male che... Ma anche 4,70 è troppo. Il calippo, questo qua, costa... No, no, calippo 4,70. Calippo 4,70, quasi 5 euro. Quasi 5 euro questo qua. Però questo è il mio proprio preferito. Cola mi piace questa qua. Coca-Cola mi piace. Peggio di tutto è questo. Altra cosa che vi faccio vedere, amici, guardate come si... Questa padella è stata in frigo. A me padella in frigo non piace. Questa è induzione, non è elettrica, amici. Qui c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo. Vedete? Freddo. Sotto bolle, perché qui c'è faraona. Vedete faraona? Quando tiri padella da frigo comincia a sgocciolare perché condensa, comincia ad avere condensa. E si mette questo qua, carta. E assolutamente... Guardate com'è bella carta. Pulitissima, stirata e non fa niente. Usano anche così per non sporcare, per non rovinare, per avere sempre bella questa induzione, sempre brillante. Ma è importante, padelli, i pentoli, così. In alto e basta, non così strusciare. Sennò dopo io non ce l'ho nessuna riga. Ora non è pulita ancora. Però è così, amici. Questo life hack, se qualcuno ce l'ha ora una grande, una vecchia gas, prendete quella di gas, lasciate quella di gas, prendete induzione, amici. Conviene tanto tanto, perché è un amore e consuma poco. 3.000 kilowatt io ce l'ho a casa, mi basta e mi avanza. Sempre da frigo, sempre quelli... Questo mangiamo domani, faraona, amici. E questa bella insalata insieme rucola, sì. 6 euro, 6 euro, 6 gelati da impazzire. Come si sta bene, quando si torna al mare, a casa si sta molto bene, perché è molto fresco, amici. E ora vado a raccogliere un pochino di prezzemelo. Guardate il mio prezzemelo, quanto. C'è tanto prezzemelo. Prezzemelo è questo, vedete? Questo è prezzemelo, ma io voglio raccogliere basilico, basilico, amici, per fare pesto genovese già quarta volta. Guardate le mie piante, vi faccio vedere. Questa rosa mi è preferita, mi piace molto. Questa ho trovato sotto balcone di uno, un foglio così, e raddoppiato, mi cresce bene. Il mio preferito è questo qua, guardate. Questo amore, questo di nostro palazzo, giù, composizione. Anche questo ho trovato sotto palazzo, un foglio, e mi è cresciuto così. C'è questa. Un po' di mix, bella verde, ma i miei preferiti è questi. Guardate, qui ci sono nuovi, nuovo, nuovo e nuovo. Questa è la mia preferita, amici. Spruzzo sempre, tutti i giorni. E questo regalo, mio, vedete, piantami regalato, per ferragosto. Ferragosto mi ha dato questo nuovo foglio, che io sono tanto felice. ora andiamo a mangiare gelato, perché c'è tanto gelato a casa. Questa sopra naffia, e tutta acqua va, vedete, va sopra tenda, questa qua. E questa, di sotto, sente tutto, tenda macchiata. guardate come naffia con attenzione. Mamma mia, se mi fanno così, io mi, molto arrabbiata sarò io, perché non si può nemmeno una goccia buttare giù. Amici, io tanto per disciplina, tanto, non è giusto che, che uno mi macchia, non è casa mia questa cosa, non è giusto che uno mi macchia, in questo modo così. Basilico sta bene, questo ha seminato da poco, vedete, i due pomodori devo raccogliere, ecco i pomodori questi, perché Marisa dice che vanno male. Guardate, un altro pomodoro, questo caduto, bisogna alzare, e questo pomodoro maturo, ok, i due pomodori, ci sono anche qui, ma niente da fare, il prossimo anno non faremo, perché è spreco di, ci sono fiori, ma bisogna curare di più, terriccio di più, tutto di più, amici, così, non faremo, anno prossimo, orto, no, no, no,